La partita di Verona si è stata una partita diversa da tutte le altre perché per la prima volta credo che noi eravamo la cornice e invece spesso si parla della cornice di pubblico e invece penso che era le squadre in campo la cornice e tutto il resto a fare il contesto è stato qualcosa di emozionante perché credo che sia stato uno spettacolo vedere la Nazionale giocare all'Arena di Verona e penso che sarà una cosa che ci porteremo dentro, i nostri ricordi e sono contento che tutte le ragazze abbiano avuto la possibilità di entrare in campo a godersi anche se solo in parte quello spettacolo. Torniamo a giocare in un ambiente che conosciamo meglio e saranno due partite consecutive quindi vedremo anche come gestire le energie in vigliere di questo però credo che dal punto di vista dei dati, di quello che ci interessa vedere dalla squadra inizierò a valutare dalla partita di domani quello che siamo e quello che dobbiamo fare.